Salve a tutti, io sono Gaspare Di Stefano. No, io sogno l'appuntato Giorgio Mirto e sogno un carabiniere in questa caserma che non la facente, sì, non la facente sono, perché non fanno niente dalla mattina fino alla sera. Un giorno però è arrivato un bel tenente e finalmente posso dimostrare tutto quello che valgo. Ma sarà così? Venite a scoprirlo al Teatro San Babila di Milano dal 20 al 25 marzo 2018. Minchia signor tenente, vi aspetto!